Gentili telespettatori, buona giornata, c'è lo scontro in vigilanza RAI, perché il governo dice a noi la parcondicio non piace, però la legge c'è, ma dobbiamo modificarla, perché se nel mese di parcondicio, i 30 giorni che precedono le elezioni europee, il ministro non può andare a dire che ha mandato gli spaghetti nello spazio, si va a privare il governo dell'informazione che deve il cittadino ricevere, cioè se Lollobrigida manda gli spaghetti nello spazio, tu cittadino lo devi sapere, non è che mi puoi cronometrare Lollobrigida, dice ha parlato tre minuti, adesso chiamiamo Fratoian, no, chiamiamo Bonelli che parla tre minuti dei sassi del fiume che la Meloni ha prosciugato i fiumi. Ecco, quindi il governo dice la parcondicio va bene per quei politici che non sono al governo. Non so, il politico di Fratelli d'Italia non può andare a parlare da del debbio mezz'ora, però poi del debbio deve far parlare mezz'ora un politico dello schieramento opposto. Però se è un ministro, a quel punto, se il ministro ti va a raccontare cose che non sono inerenti al suo ministero, allora deve essere cronometrato e poi deve esserci un altro che parla. Però se il ministro va in televisione a parlare del suo lavoro, a quel punto non ci deve essere parcondicio. Il ministro deve avere diritto, come il governo, di dire agli italiani quello che stanno facendo. L'opposizione dice, ah beh, bella questa, no? Allora tutti i ministri vanno in televisione, parlano per ore dicendo ah che bello, adesso faccio, faccio, non lo so, in agricoltura, do mille euro ad ogni agricoltore, sto pensando. Ecco, l'opposizione dice, vabbè, con questa scusa tu mandi tutti i ministri a parlare in tutti i telegiornali, in tutte le trasmissioni, li fai parlare del loro lavoro, loro ti raccontano che stanno facendo delle cose incredibili, alla fine diventa propaganda che non rientra nella parcondicio e c'è un disequilibrio tra governo e opposizione. Hanno ragione tutti e due, il governo ha ragione nel dire, scusate ma per un mese non si parla più di politica perché c'è la parcondicio e devi cronometrare dieci secondi, nove secondi, otto secondi. Ecco, il governo giustamente dice, allora per un mese non si dice più niente agli italiani perché ce la parcondicio, ci sono le elezioni europee e per un mese tutti zitti. Quindi il governo ha ragione, dall'altra parte ha ragione anche l'opposizione che dice vabbè dai, adesso mi mandi tutti i ministri a parlare, ti parlano per ore e ti fanno propaganda, quindi hanno ragione tutti e due. Io farei un'altra cosa, io se fossi il governo farei un'altra cosa, cancellazione della parcondicio, cancellazione del silenzio elettorale, tanto voi lo sapete perfettamente che in televisione sei lì col cronometro e poi ti metti a fare una diretta su Facebook di 18 ore consecutive e nessuno ti dice niente, quindi da del debbio sei lì col cronometro, pronti via. Quindi devi parlare massimo 30 minuti perché poi c'è l'altro che deve parlare 30 minuti e poi scopri che il programma di del debbio lo hanno visto 400.000 persone e magari quel programma, quella diretta fatta su YouTube l'ha visto un milione di persone, però su YouTube puoi fare quel cacchio che ti pare, senza contraddittorio, senza parcondicio, però in televisione no, perché la parcondicio parla solo di radio e di televisione, non ti parla di internet. Internet non può essere controllata, che fai? Telefoni a Facebook, guarda che quello lì ha parlato mezz'ora, dopo mezz'ora devi oscurarlo e devi aspettare che quello lì ti faccia parlare adesso sul suo canale e sulla sua pagina, ti faccia parlare un altro e c'è qualcuno in Facebook che ti cronometra, fantascienza, quelle sono aziende ammargane, però non esiste telefoni a YouTube, io collaboro con YouTube da 5 anni, ma io posso fare tramite internet una chat dove chiedo a qualcuno una cosa, spesso non sanno neanche risponderti, ma io se volessi parlare di un problema a qualcuno di YouTube non ne ho modo, io che sono socio da 5 anni non ho modo di parlare con nessuno di YouTube, non conosco nessuno, non è che c'ho, ah senti Giovanni, volevo dirti questa cosa, non esiste, immaginatevi in una parcondicio un'azienda americana in Italia che dice, ah quello ha fatto una diretta di 30 minuti su Facebook, adesso telefono, gliene dico 4, ma chi cacchio telefoni? Quelli che magari hanno il numero diretto sono i grandi influencer, le celebrità del web, per esempio, la Ferragni, da quello che ho capito, aveva il numero di telefono, ha il numero di telefono di qualcuno in Instagram, probabilmente magari del capo di Instagram Italia, dove naturalmente lei con 30 milioni di seguitori ha un contatto diretto, ha un contatto diretto, e questo non c'è su tutti i social, anche se voi avete tra i milioni di seguitori su YouTube non credo che abbiate il contatto diretto dell'amministratore delegato della piattaforma negli States, non credo proprio, magari sì, però, quindi secondo me tra i due litiganti che tutti e due hanno ragione, perché hanno tutti e due ragione, oppure se volete fare i tifosi dite che ha ragione solo la vostra parte, gli altri sono dei cretini, perché poi c'è sempre qualcuno che fa il tifoso e dice noi abbiamo ragione e loro torto, poi di qua, no, loro hanno torto e noi abbiamo ragione, vabbè, l'infantilismo e la tifoseria non fa ragionare le persone, però io vi dico, hanno tutti e due ragione, a questo punto perché non la cancellate sta parcondicio? Ognuno parla tutto il tempo che vuole, quando vuole, diceva, ma il governo c'ha le televisioni? Eh, amici miei del PD, è stato il vostro Matteo Renzi del 2015 a dire con una legge che chi arriva al governo ha diritto dovere di mettere i suoi uomini e donne in RAI, quindi il PD ha fatto una legge che dice che chi governa controlla la RAI che diventa uno strumento di propaganda, pertanto quando ci sono poi le elezioni lo strumento di propaganda viene utilizzato ancora di più, ecco, pertanto se togli la parcondicio allora, ma scusate, credete veramente che i politici che vanno in televisione fanno cambiare idea agli elettori? Ma davvero? Perché quello ha parlato un minuto in più col cronometro, oh, 30 secondi di più, no, non è possibile, non siamo ridicoli, cancellate il silenzio elettorale e la parcondicio e fate che ognuno dice, parla tutto il tempo che vuole e quando vuole e dove vuole. Viva la libertà, il silenzio elettorale e poi ti fanno le dirette su Facebook. Aridicoli, arrivederci a tutti.